E' stata oggi lanciata l'iniziativa nel Parco del Delta dei Parchi per Chiotto. Questa iniziativa, che vede coinvolte le aree protette italiane, è stata realizzata al fine di realizzare degli interventi di forestazione all'interno di parchi nazionali, regionali e riserve naturali italiane, al fine di compensare le emissioni di anidinide carbonica, quindi le emissioni di CO2 che vengono emesse in atmosfera dalle diverse attività antropiche dell'uomo. Uno dei compiti del Parco è quello di far conoscere il territorio del Delta, soprattutto investendo sulle giovani generazioni. E quindi abbiamo promosso una conferenza stampa d'Argenta per lanciare la campagna con la partecipazione di una scuola, di una scuola elementare, di una classe. Abbiamo scelto di cominciare dalla stazione Campotto di Argenta del Parco, una campagna di non tanto comunicazione, ma noi ci auguriamo proprio di azione a favore dell'ambiente, cercando di ripristinare delle zone boscate che erano presenti in modo molto più consistente nel Delta del Po. Oggi non solo all'interno del Parco del Delta è stata fatta la piantumazione dei primi alberi, ma questo è avvenuto in altre aree protette. Pianteremo dei pioppi, degli ontani e dei frassimi, quindi piante che sono veramente l'ossatura e la struttura portante dei boschi di pianure che un tempo ricoprivano quest'area. Tale iniziativa porterà praticamente alla realizzazione di 22 ettari di bosco. Il progetto è partito qui a Campotto per una ragione molto semplice, perché già da tempo il Comune di Argenta si è impegnato a reperire i terreni sui quali fare gli interventi di riforestazione e proprio qui ad Argenta abbiamo la disponibilità di 4 ettari di terreno su cui effettuare l'intervento. Per questa ragione a Campotto di Argenta verrà effettuata la prima intervento del progetto Parchi per Chiotto. Campotto è il primo dei nostri interventi che ci auguriamo di poter estendere soprattutto lungo la costa dove abbiamo un grande progetto di ripristinare nel sito UNESCO Ferrara e il suo Delta del Po il bosco e liceo che c'era al periodo degli estensi. Questo vuol dire collaborare anche con le proprietà private e non solo con gli enti pubblici come è nel caso di Argenta. Il Parco del Delta ha voluto coinvolgere le scolaresche al fine di far capire ai bambini l'importanza del consumo e delle emissioni di idroide carbonica in atmosfera e quindi la necessità di poter ridurre queste emissioni. Investire sui ragazzi vuol dire far prendere coscienza loro del patrimonio che c'è nel Delta e anche perché saranno loro, sfortunati noi, i beneficiari della qualità della vita che deriverà da questi nuovi boschi che noi cominciamo a piantare. Saranno loro i beneficiari. Il fatto di aver invitato una scuola elementare è anche perché è proprio nella filosofia del parco cercare di comunicare ai ragazzi giovani ancora la manualità che stanno perdendo per via delle tecnologie di cui sono bravissime in possessarsene però poi dopo non sanno muovere le mani. Ecco già oggi si è visto mentre pietavano gli alberi quanto si divertivano a muovere la terra col badile a camminare in mezzo al fango quindi anche questa pensiamo sia un'azione educativa che possono fare i parchi in modo divertente senza annoiare i ragazzini.